Ad una settimana esatta dall'inizio del gioco, domani esce il primo tagliandone per votare il campione preferito delle cinque categorie previste da Vota il tuo campione, Pulcini esordienti, Allievi, Giovanissimi, Juniors e Allenatori. Da venerdì scorso è possibile votare e domani, venerdì 27 febbraio, si può accelerare la corsa verso la vittoria con il primo tagliandone che vale 10 punti. Le votazioni termineranno il 3 maggio e Libertà pubblicherà altri tre tagliandi jolly da 10 punti e tre super tagliandi da 25 punti, di cui te le Libertà darà sempre comunicazione la sera precedente. Lunedì sera a Zona Calcio la trasmissione dedicata al calcio di Lettanti Piacentino è stato ospite anche Luca Pinotti, primo vincitore della categoria Allievi. Sei stato il tuo ad iscriverti, ti hanno iscritto? Beh è stato più una sorpresa di miei genitori che mi hanno votato, mi sono trovato sulle Libertà. E poi hanno invitato anche tante altre persone a votarti? Sì, il mio paese, tutti. Il tuo paese è a Gragnano? Sì. Sì, e hanno votato tutti, ti hanno seguito, quindi erano tutti contenti poi quando hai vinto. Anch'io. Per te è stata una grande soddisfazione? Sì, sì.